Cazzo e quarto Tu quanto pensi? Eh, tanto a casa Tu ne decolli ancora, sì E quando le poni non passate per fronte E che calma a casa, sto dritto anche, non chiedemo una parola Eh? Mi chiede di cotto, non è che mi interessa più di tanto Sto tagliato le uno, no, di più Eh? Sì, sì, va bene 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 Sì 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 Grazie. 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 Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao! Ciò. Ma l'ha muerto? Alla muovere la mano? Eh! Ho volato quasi alto come dicete. Peluca! Che ti lo hai detto? L'ho detto si l'ho detto. Cosa? Si! ha fatto una parvenza ma ha salutato un po' veloce ma sta minacciando una cosa saluta bene saluta bene è comunista è comunista se sei passato dall'altra parte è brutto va bene il punto del ancio diche lo risulta diche non saltarò mai più senza tempo perchè dice che fa bene il punto del ancio ma lui te l'ha fatta in cattivaria lo so ma a me non ti ha fatto i coglioni e se me le disesse uno o se me le fiese i notari allora è un discorso qua io ho fatto un bel ancio come era? bene bene molto bene eh ho la vita con uno tutto diche adesso che un attimo del discorso è un attimo è un attimo è un attimo